Gigi, Gigi d'Agostino, eh eh eh, questo è il mio campino Nel settembre del 1981 Tu accostai il 45 giri e quel racconto Per potermi riascoltare quella storia ogni volta che ho voluto Per potermi riascoltare quella storia ogni volta che ho voluto Per potermi riascoltare quella storia ogni volta che ho voluto Per potermi riascoltare quella storia ogni volta che ho voluto Per potermi riascoltare quella storia ogni volta che ho voluto Stiamo percorrendo il cammino di Gigi d'Agostino Per potermi riascoltare quella storia ogni volta che ho voluto Stiamo stimando che sta suonando Gigi d'Agostino E' il cammino di Gigi d'Agostino Per potermi riascoltare quella storia ogni volta che ho voluto Il messaggio di Gigi d'Agostino o volete far sentire il vostro pensiero mandatemi il vostro SMS al numero 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2 7位唯一Q号码 121730453 7.0 7.0 7.0 5分钟差不多左右 5分多钟 一直在跳 一直在跳 然后刚才那个舞 是七妹的那个 叫七妹的重低音慢嗨 然后 现在给大家跳 第二支舞蹈 喜欢的话 点一下主播的关注 然后打一个小小的广告 有一箱做长空的 小伙伴可以点 跟我们的四三号卖色调一下 可以看我们 主播彩排 全是汗 天呐 反光全是汗 好了 然后接下来给大家跳第二支舞蹈 我刚才跳 我刚才跳 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti